Bella raga qua Argasmi che sono qui con il pink slip di Lewandowski che è da tipo 5 anni che lo devo fare ma come sapete ho sempre avuto problemi adesso con il nuovo computer per registrare le partite ora che ho risolto posso giocare e dunque la partita che avevo fatto perché io con il mio sfidante che avevo estratto sulla pagina avevo già giocato e avevo vinto ai rigori dopo aver pareggiato 2 a 2 mi sembra che lui aveva pareggiato 2 a 2 adesso non mi ricordo con precisione comunque eravamo 2 a 2 ho vinto io i rigori con un rigore mi sembra di Luis Gustavo decisivo comunque andremo a rigiocare la partita ovviamente sarà una semplice amichevole e nel caso vincesse lui non prenderà Lewandowski anche perché l'ho vinto io alla prima cioè lui come testimone non è che mi invento le cazzate c'è chi deteglielo pure non è che mi fanno non ci sono assolutamente problemi l'ho vinta io quindi anche se vincesse lui in questa partita è soltanto per caricare il video su youtube e anche per far vedere che comunque è un buon giocatore quello con cui adesso andrò a sfidare la squadra è questa è quella la stessa squadra che ho utilizzato nel video precedente dell'italian wager boh a me sostanzialmente piace la squadra tranne un po' il centrocampo perché per esempio Diego un po' boh un po' sparisce boh non lo so forse la posizione essendo lui un trequartista e poi vabbè i due soprattutto l'eiva è un po' lentino comunque vabbè ho questa squadra giochiamo con questa no adesso andremo a cercare il mio sfidante e vediamo quando si connette per giocare eccolo qui il mio avversario serie A ha una serie A quindi attenzione maglietta boh non si capisce usiamo la rossa fanta team vediamo la squadra si appunto una serie A beh non sempre quelle che scrivono poi veramente la serie A o altri campionati comunque Balotelli di Natale Tevez in attacco poi gli altri giocatori sono abbastanza normali in ogni caso Balotelli ho paura troppa paura cazzo mamma mia mamma mia no no prendilo preso grande no vai Diego Diego dagliela mamma mia Royce Royce ma tira ma tira prima ma vaffanculo angolo paura angolo paura la prende lui mamma mia ancora fuori che pericolo è Alaba rientra dai no era sul best che sfiga cazzo angolo sfruttiamolo pericolosi pericolosi si buonanotte no finisce il primo tempo partita alla pari però ho fatto un tiro in porta più io un pelo di possesso palla più lui però comunque sia la partita è giusta sullo 0 a 0 vediamo se si sblocca nel secondo cazzo Balotelli un caro armato cazzo lo pre no miracolo di c no 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 ma non è possibile questo è partito da 35.000 metri e non l'ha fermato nessuno incredibile quanto è forte bagato che bella l'ha riusciata andava due all'ora ma poi ha 20 metri dalla porta cazzo totò paratone di check dai 15 minuti dai non ne prendiamo una occhio no non è possibile deviazione sicura questa fammi vedere questa è una deviazione sicura incredibile eh non lo favo dire dai oh nostra dai Royce gol bucato il portiere gran gol di Royce dai mancano 3 minuti più recupero io ci credo ci crediamo tutti qua no come un minuto di recupero è finita non è possibile non ci credo come si fa a dare un minuto di recupero quando al primo tempo ne hai dati 3 cioè proprio non esiste dare un minuto di recupero al secondo tempo neanche se stai vincendo 7 a 0 puoi dare un minuto di recupero comunque sia vittoria del mio avversario ci sta perché comunque ha giocato sicuramente meglio di me non ero proprio un partitissimo io ho avuto credo più occasioni lui adesso comunque vediamo dalle statistiche Royce ha fatto quel gol ma non mi è piaciuto per niente non era mai in posizione la Cicoschi neanche brutta partita infatti ha fatto il doppio dei tiri lui quindi sicuramente partita meritata adesso voglio vedere il gol di Balotelli se è stata proprio una deviazione o no come si fa a togliere sto coso a triangolo allora eh sì deviazione netta forse anche di due miei difensori quindi l'hanno deviata spiazzato Cech magari la prendeva anche se non la deviavano magari no non lo so però comunque sia gol gol deviato quindi abbastanza sfortunato allora ci ho ripensato e ci siamo messi d'accordo visto che ci avevo ripensato quindi gli avevo proposto a questo ragazzo che gli dava appunto Lewandowski anche se la prima l'avevo vinta io però essendo stata un po' colpa mia cioè non proprio colpa mia però comunque l'io responsabile anche se ho vinto la prima comunque lui ha vinto questo si è dimostrato un ottimo sfidante allora gli ho proposto appunto che gli dava Lewandowski lo stesso tanto non è che mi fa differenza cioè anche averlo non averlo non mi fa differenza lui non ha accettato perché è molto corretto devo dire è veramente un grande però poi alla fine ci siamo accordati per far felice entrambi eh gli dargli la metà del suo valore cioè 25.000 crediti e così adesso gli manderò un'offerta di 25.000 crediti questo più i 25.000 comunque si sono impedito ok fai offerta adesso aspettiamo che la accetti e appunto vediamo ok ha accettato l'offerta di 25.000 crediti adesso mi prendo questo baggatissimo Pasqualini che ovviamente andrà subito nella mia squadra ovviamente eh quindi ragazzi credo di essere stato abbastanza onesto anche perché a me non cioè mi sembrava giusto così fatemi sapere voi nei commenti se ho fatto bene se ho fatto male se sono un pirlo o no però comunque a me 25.000 crediti non è che sono così importanti magari a lui servivano che ne so comunque ragazzi io come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace a 300 mi piace ci sarà un nuovo pink slip un commento ovviamente consigliatemi qualche giocatore magari da scommettere che non sia troppo costoso perché boh a me piace giocare magari non quelli troppo costosi ma comunque sul prezzo di Lewandowski anche di più magari però vabbè poi vediamo ovviamente iscrivetevi al canale alla pagina facebook il link è in descrizione è importante iscrivervi alla pagina facebook perché è lì che manderò cioè estrarò per i vari pink slip ma anche per i wager match che adesso farò da adesso in poi quindi ragazzi come al solito io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video bella raga